devo dirvi che sono rimasto un po male del riscontro che ha avuto la proposta di questa challenge diversamente dalle persone che hanno risposto con tanto entusiasmo che vedrete fra poco non tanto per non avermi detto di sì quanto per non aver detto nulla ci sono state delle persone che molto educatamente mi hanno detto di no e io le ringrazio per la loro sincerità non capisco onestamente questa paura perché non ho fatto male a nessuno oltretutto una volta che io vi ho chiamati non siete obbligati a tenere il mio numero ci sono state due persone che l'hanno tenuto volentieri io le ringrazio però non penso che ci saranno altri speciali ai colleghi nonostante mi piaccia tantissimo perché voi avete paura non lo so un'altra cosa che volevo dire che non sono riuscito a sottotitolare tutto il video perché a volte senza volerlo vi parlavo sopra quindi sottotitolerò soltanto alcune parti per dare la possibilità ai nostri amici stranieri di capire presso a poco di cosa stiamo parlando buona visione ciao a tutti colors e benvenuti in questo nuovo video spero vivamente che questo video veda la luce perché il nuovo aggiornamento nel programma deciso di farsi impazzire di farmi ma ci tengo assolutamente a farlo perché siamo arrivati a 2000 iscritti e quindi a piccoli pezzi comincerò a fare le chiamate perché questo sarà lo speciale ai call you io ho già segnato il primo numero che voglio chiamare per pure esigenze di orari corretto del del cancelletto 31 cancelletto vediamo un po' se ci risponde e soprattutto se so ancora fare le le chiamate in viva voce cioè in anonimo e vivo voce nello stesso tempo stefi stefi mi senti? si ciao ricchi sorridi sei su youtube ciao youtube sono riuscito da un botto come stai? bene tu l'emozione finalmente qualcuno mi chiama ti capisco a me è successo una volta sola io bene tu come stai? no bene intanto auguri finalmente per questo traguardo 2000 iscritti grazie ti ringrazio anzi no due volte in realtà non una sola mi raccomando un po' di milione al suo prezzo come? anche se hai 100.000 direttamente al milione pari ah grazie è bellissimo auguri ti ringrazio è un attimo fuori qui quindi non dipende il genere va bene senti io ho deciso di fare un po' un tema per queste chiamate altrimenti io non so mai cosa dire avete possibilità di scegliere un video come premio per aver risposto? oh capito devo scegliere quindi un video che dovrai fare tu? sì vorrei che tu portassi un segreto bellissimo segno assolutamente parole? ok magari parola su un segreto come? ho visto che tu ti posso anche consigliare il tema oltre un segreto comunque sì ecco quello che ti stavo chiedendo ho visto che tu su facebook pubblichi spesso dei post sulle persone che ci provano con te quindi scrivere tipo perverso o perversa cosa di questo tipo ho tipo 100 maniata queste cose così qualcuno risulta in seguito da un maniaco facebook quindi parole inerenti al rimorchio sui social in qualche modo perfetto ok mi immagino soprattutto se becchiamo la parola giusta hai visto infatti mi è peccato nell'ora precisa quindi sì mi ricordavo però adesso ho visto che ho una mezz'oretta di pace vediamo se mi risponde se no avevo preventivato siccome non siete tantissimi anche di riprovare eventualmente infatti in ogni caso ci tenevo a partecipare ma ti chiedo per farti gli auguri veramente grazie se non ho visto il numero privato so che ho capito i piedi sì niente io allora ti ringrazio per aver risposto mi segno assolutamente il video ma grazie veramente ancora tantissimi auguri ormai penso dopo l'estate perché se no adesso non mi si chila nessuno infatti pubblicherò ancora un po' e poi vado in vacanza però ci sarà perfetto tranquillo ci sarà sicuramente va benissimo ciao buona giornata ciao grazie una buona giornata anche a te ciao 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 carina ero emozionata questo video mi sa che non sarà assolutamente sottotitolabile perché io poi non so parlare al telefono parlo sopra e non me ne accolgo scusami Stefi che ti ho parlato sopra allora proviamo a chiamare Roberta pronto pronto la volevamo informare che è stata messa a Hogwarts ah bene ciao Roby sono contenta sono contenta ciao sei su youtube ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta sì anche se vabbè basta bene dimmi tutto hai domande da farmi sì sì come premio per aver risposto hai la possibilità di scegliere un video un video? che l'argomento lo scegli tu e lo faccio io ah beh allora argomento argomento Harry Potter quanto meno anche se non so magari l'hai già fatta così però è uno dei miei argomenti preferiti beh alcuni li ho fatti possiamo farne uno che non ho fatto esatto esatto tipo? ma magari eh non lo so magari poi dopo valuteremo insieme magari parleremo in questo momento mi prendo un po' la storvista beh l'effetto sorpresa ci voleva anche sull'argomento perché se no poi si te l'aspettavi insomma eh no certo no certo ok sicuramente hai fatto qualche qualche video tag mi sembra forse qualcosa ho visto ho fatto un video tag su animali fantastici esatto e i dieci personaggi preferiti che io mi ricordo dico sia memoria poi mi sa basta esatto ma non so qualcosa cioè ho sempre un video tag però magari chi li ha già fatti no o qualcos'altro magari poi eventualmente ne riparleremo ok ci sentiamo in privato e concordiamo allora yes ok grazie della telefonata figurati grazie a te per aver risposto ciao 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 massimiliano chi sono ah sei tu ho detto ma chi è dico che mi chiama con un numero strano è tutto a posto sì tutto a posto come stai tu caro ah io insomma abbastanza bene ma non non perfettamente io ho sempre i miei problemi e insomma eccoci ho già fatto il video visto con la nonna sì che ha voluto andare su youtube adesso sei nel mio ecco ecco io sono qui in casa con lei scontate una cosa per il video che poi questa questa la metterò eh quelli che hanno risposto come piccolo premio diciamo hanno la possibilità di scegliere un video prossimo che dirò io qualsiasi tipo l'importante è che io sia fattibile mi dici che video vorresti vedere che video vorrei vedere sì quelli vecchi dici no un video che girerò dicendo come lo hai richiesto tu durante la sfida e con gli uns che video ti piacerebbe vedere non lo so non lo so non lo so non ho idea proprio guardando non mi farei video spese no guardando il tipo di video i tipi di video che faccio di solito se c'è un argomento vorresti approfondirsi non lo so va bene caro mi fai bene e poi dopo ci sentiamo certo ora io me lo memorizzo io non posso parlare te lo dico se non posso non prenderla male perché non è che non voglio parlare capito no vai tranquillo ciò possiamo è molto impegnativo non è una situazione faccio fatica anche con mia sorella quando mi chiama possiamo chiacchierare anche eventualmente su whatsapp un po' oltre che a parole certo sì sì possiamo anche su whatsapp se non c'è problema sì e magari ecco non so il telefono lei non vive dal telefono capito ok ok ciao ciao bello è stato un piacere grazie a te ciao adesso proveremo a chiamare gridoni perché mi ha dato un numero lavorativo e poi speriamo di riuscire a chiamare jessica entro domenica perché io lunedì vorrei darvi il video pronto? pronto? cercavo un orzo grizzly oi ciao caro ce l'ho fatta come almeno come va? bene te? tutto a posto allora sei su youtube sorridi? mi fa molto piacere soprattutto sentire la tua voce e poi sapere che sono pure su youtube eh sì infatti metterò tipo una sovraimpressione invitando ad andare anche sul tuo canale questo sei libero di farlo o no per me non c'è problema non chiedo mai a nessuno di spammarmi sì sì no è una cosa che mi fa piacere fare soprattutto perché la maggior parte di quelli che ho chiamato sono youtuber quindi se vi posso dare un'omanda in questo senso mi fa piacere ma questo come ripeto fa piacere anche almeno soprattutto mi fa piacere sentirti sapere che sei libero e che questi stai facendo questo obiettivo di telefonare sì infatti piano piano ce la sto facendo io ho visto che avevi annunciato che avessi complicato in realtà ero in azienda sapevo che mi avresti chiamato ero più giusto bene bene ascolta io ho pensato di fare un piccolo topic per queste chiamate così per renderle un po' più simpatiche come premio per aver risposto avete possibilità di scegliere un video che io possa fare possibilmente da solo l'argomento è proprio super libero interessante interessante e guarda io adesso che è il mese di luglio sto trattando il viaggio nel tempo puoi accogliere questo argomento e trattarlo anche tutti può fare solo piacere come avevamo già fatto con la collaborazione parlando sì 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 volentieri interessante va bene è stato un piacere sentirti grazie a tutti gli amici che seguono il canale di True Color iscrivetevi al suo canale se state vedendo questo video per la prima volta perché è un grande ed è un carissimo amico grazie grazie per avermi ospitato sul tuo canale e ci vediamo sicuramente alla prossima alla prossima ciao caro pronto ciao porca miseria ciao ciao come stai? bene dai diciamo bene allora? è da ieri che posto immobile mi tema contro porca miseria no infatti io purtroppo ero allora diciamo che la prima non l'ho fatto in tempo invece la sera non ce l'ho proprio stavo sconti per la portata a giuda e fa un giro quale di vita ha fatto così ah ok oggi l'ho costa almeno così non costo ce l'abbiamo fatta sì ce l'abbiamo fatta allora e io anche non c'è male stasera vado a sentire la mia insegnante in concerto scolta io per questo I go new ho pensato ho pensato e di solito andiamo di note vocali grazie ho pensato a un tema per rendere queste chiamate un po' più personalizzate potete scegliere un video ah davvero bello cosa vuoi ma sarebbe interessante il tema ah beh c'è già parlato sul bullismo bullismo si in effetti l'ho sempre accennato sarebbe l'occasione per approfondirlo questa volta wow mi è andata un po' un po' meglio rispetto ad altre persone però insomma qualcosina è capitato poi dirò direttamente nel video sì vabbè lasciamo perdere questo bullismo non a caso comunque sì sì no ovviamente è una passata a cercare va bene ce l'abbiamo fatta alla fine ah sì appena ce l'abbiamo fatta ma che ti piace che qua ieri ci pensavo io massima ti dico ma il controllo è certo è già che Stefano non ha detto ma guarda si passa la segreteria non ci pedevo perché non ci pedevo perché non ci pedevo perché non ho risposto capito e invece adesso mi ha detto anche te che sono tutti i passi avevamo tutti i propri rimenti non ho così ma io infatti l'ho tolta per lo stesso motivo perché anch'io per tanti motivi non posso essere veloce molto spesso qualcuno mi dava no ma immaginavo infatti è un po' costa mia un po' così ecco qua non ti lascio a compattare vabbè dai abbiamo risolto comunque abbiamo risolto comunque dico va bene saluto anche lei grazie a te ok un abbraccio ricambiato ciao 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 è un nuovo giorno mi era dimenticato di salutarvi come ovviamente avrete capito il video finisce qui se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere tanti nuovi video anche se tra un po' andremo in pausa ma ritornerò e noi ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao